Bella a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Formula 1 2020 signori abbiamo concluso la stagione passata con un ottimo piazzamento sia in classifica pilotica che in classifica costruttori e ora ci accingiamo ad iniziare la seconda stagione detto questo signori, prima di partire con il video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi sui social, sia su Facebook che su Instagram mi trovate come Maullo941 in cui vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live vi ricordo, che altro? niente, non vi ricordo nient'altro, una buona giornata a tutti quanti di guardare il link in descrizione in cui trovate sia i link dei miei social, sia i link degli abbonati al mio canale detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video ok signori, allora io sto facendo questo video in cui dobbiamo impostare la stagione per l'anno prossimo e lo volevo fare con voi, è inutile che lo facevo, poi mi nascondevo, poi evitavo le informazioni, cavoli e mazzi allora, prima cosa da fare, il nostro personaggio rimarrà il nostro bellissimo Papa Maullo no, veramente Maullo, Maullo, Papa Maullo, sì, giusto che sto a dire, sto ringraitenito, non lo tocchiamo più di tanto dettagli scuderia dettagli scuderia, allora, il nome rimarrà quello lì, famoso, ok lo sponsor principale, lasciamo questo io ho guardato un attimino fra i vari tipi di sponsor è quello che comunque ci paga di più anche come entrate settimanali, signori ed è obiettivo, il migliore sarebbe questo, Induluvu, dell'elefante guadagna 100 punti durante una stagione, io non lo so se riusciamo a farli quest'anno siamo riusciti a farli, sono sincero, però non so se riusciamo a farli, mi darebbero 5 e 5 bonus alla firma, loro me ne danno 4 e 3 vabbè, rimaniamo fedeli al nostro sponsor che ci ha portato fin qui il motore, signori, noi siamo motori Renault prestazioni 100, resistenza 80 ma io ho detto che quest'anno volevo passare ai motori Ferrari per avere una scuderia più italiana possibile prestazioni 100, resistenza 85 quindi, andiamoci a prendere il nostro bellissimo motore Ferrari e, G8 va bene così e va bene così quindi la nostra Maulo Racing adesso è una Maulo Racing Ferrari seleziona Livrea allora, questa è la Livrea che abbiamo utilizzato in questa prima stagione ovvero blu e gialla non è bruttissima, non è bruttissima però, dobbiamo cercare di creare qualcosa di meglio andiamo su Crea Nuova Livrea eh... Livrea, sì vediamo un attimino cosa ci abbiamo a disposizione allora, questa possiamo cambiare la colore ok questa non possiamo cambiare colore è così standard questa possiamo cambiare colore ok, quanti colori sono qui? sono due colori mmm... volevo metterci anche un po' di rosso visto i nostri motori Ferrari però così non è brutta, potremmo farla gialla e blu carina questi sono tre colori il verde, il rosso e il nero il verde, il rosso e il nero allora, signori, ci ragiono un attimo e vi faccio vedere poi a fine video come... ah, no, senza, e dopo vi faccio vedere come è venuta fuori la nostra nuova macchina e voilà, signori questa sarà la livrea che utilizzeremo quest'anno ho mantenuto il giallo ho mantenuto il blu questa era quella dell'anno scorso che era più blu e giallo se assieme questa sarà quella di quest'anno c'è comunque il blu c'è comunque il giallo abbiamo messo un pizzico di rosso perché comunque il rosso nel mio canale c'è e perché quest'anno avremo motori Ferrari allora, a me piace un botto a me piace un botto, signori non so a voi ma a me come macchinina per questa, come livrea per quest'anno mi piace tantissimo poi dovremo vedere tutti come mettere i vari sponsor però va bene già abbiamo la macchina il logo scuderia va bene questo manteniamo il giallo, il rosso e il blu e colori scuderia giallo, rosso e blu perfetto, signori niente, niente di preoccupante la tuta la tuta, la tuta, la tuta sì, manteniamola così mi sta bene questo giallo questo giallo florescente mi piace il Gran Premio lo manteniamo a 22 gare ok, avanziamo e qui lasciamo tutto come era non voglio toccare nulla conferma cambiamenti conferma cambiamenti non voglio toccare nulla e andiamo avanti perfetto è iniziato la nuova stagione già vedete un attimino tutto l'ambaradana tutta l'ambaradana va bene abbiamo 40 milioni tanta roba, signori tantissima roba abbiamo un bel po' di cose da sistemare allora, andiamo a mettere subito vediamo 5 giorni 5 giorni 7 giorni riunione propulsore 7 giorni allora, facciamo 7 giorni questo poi abbiamo altri 2 giorni no, no, no fermi tutti fermi tutti leva questa mettiamo 5 giorni conferenza stampa non ci dobbiamo far crescere il nostro secondo pilota perfetto allenamento ritiro privato e negli altri 4 che ce fanno? non ce fanno nulla non possiamo fare nulla che gran pagaiata va bene facciamo allenare solamente il nostro amico in privato qui andiamo a sbloccare un po' di cose allora, io direi intanto di abbiamo 40 milioni miglioriamo quale prestazione del nostro secondo pilota senza indugio senza problemi poi andiamo sul propulsore miglioriamo la generazione di punti risorsa ok così questa è una cosa importante signori stessa cosa punti risorsa qui della resistenza anche se controllo qualità tempo di costruzione potere poi sviluppare al massimo 3 possibilità di guasti ridotti no aumentiamo i punti risorsa signori questa secondo me è la cosa più importante da fare aumentare i punti risorsa anche se spegniamo qualche soldino qui spegniamo la gestione delle attività ok che è proprio a zero e questo di qua si spendi spendi siamo rimasti con 13 milioni abbiamo fatto tanto abbiamo fatto tanto abbiamo fatto poco ma tanto però stiamo un attimino migliorando tutta quanta la situazione aumentano i punti risorsa che entreranno quest'anno ok ci sono rimasti 13 milioncini 13 milioncini io me li spenderei pure aumentiamo ancora i punti risorsa signori così possiamo migliorare ancora di più la macchina e fare gli macelli e fare i macelli qua ci vogliono 6 milioni però porca miseria qui ha pure 6 milioni c'è qualcosa che costa meno 5 milioni 5 5 5 e vabbè aumentiamo il telaio punti risorsa ok dai rimaniamo con 7 milioni e 2 andiamo su ricerca e sviluppo abbiamo 626 punti 626 punti dove mi dici di investirli qui tutti quanti praticamente e va bene solo dici te e investiamoli lì va bene ha giudicato ha giudicato investiamoli vediamo cosa succede signori abbiamo qualche RS in corso come RS in corso no non me l'ha preso sviluppa sviluppa porca miseria non me l'aveva preso ero un attimo rincredinito è ancora in vacanza il nostro ingegnere il nostro ingegnere è ancora in vacanza ok avanziamo signori avanziamo 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 dai 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 meno 200 eravamo andati sotto con i punti ottima come cosa dai 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 avanziamo 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 abbiamo la presentazione dell'auto andiamoci a fare la presentazione dell'auto signori bello 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 attenzione la nostra nuova maullo racing è nata è nata l'abbiamo partorita l'abbiamo partorita signori l'abbiamo partorita guardatela che carino è pulita non è per niente è pulita dai il rosso ci sta perché il rosso Ferrari abbiamo i motori Ferrari ci sta il giallo e il blu sono i nostri colori e il rosso comunque sono anche i colori nostri dai ci sta è pulita è pulita mi piace mi piace mi piace dobbiamo andarci a mettere tutti gli sponsor va bene così va bene così allora abbiamo 419 punti che non ci serviranno a nulla fermiamoci qua signori l'unica cosa che facciamo assieme è quella di andare a a sistemare gli sponsor livree auto dai così decalcomania allora questo ok signori vediamo il risultato finale ok lì il verde si vede lì il verde si vede là dietro slider si vede ok il nero lì si vede il rosso qui si vede ok qui si vede qui si vede pantene sullo sterzo si vede poco ma va bene lo stesso mi piace signori mi piace mi piace mi piace mi piace va bene signori detto questo io vi ringrazio ricordato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo per il primo gran primo della stagione bella ragazzi ciao ciao